Sono tornati sul luogo del disastro del Boeing malese in Ucraina orientale i 12 investigatori dell'OSCE e la prima volta da giorni. Questo mentre i media riportano inquietanti dichiarazioni del ministro degli estri australiano Julie Bishop, secondo cui sul luogo dello schianto ci sono ancora i resti di circa 80 delle quasi 300 persone a bordo. Abbiamo raggiunto il luogo verso le 14 e siamo rimasti per circa un'ora, siamo tornati senza alcun incidente, abbiamo lasciato il territorio controllato dai ribelli e siamo tornati in quello controllato dai governativi e abbiamo fatto la spola fra i vari territori. Gli esperti non avrebbero dunque incontrato grandi problemi, anche se è arrivata notizia di una forte esplosione sul luogo dello schianto. Gli uomini dell'OSCE dovrebbero tornare sul luogo della sciagura questo venerdì, malgrado gli osservatori internazionali ritengano la zona ancora estremamente poco sicura. a